Ok, l'ultima. Trovate il ministro Lollobrigi da abbinare il vino al benessere fisico con gli eventi sportivi. Cazzo, sai che me lo ropesta questa qua? The last gaef, gaef, l'ultima gaff. Cazzo, un ritmo così non ce l'aveva nemmeno Mike Buongiorno, tu sei saputo un altro... D'altra parte cosa c'è di male ad abbinare l'alcol con lo sport dai tempi di Gasconi che funziona? E l'abbinamento potrebbe anche essere una nuova specializzazione per i sommelier. Col nuoto a Delfino le consiglio uno Chablis ottimo sul pesce. Invece sui cento metri il Monte Pulciano, invece lo terrei per i bolliti perfetto per la Samp. Scusate, era autoreferenziale. Il fatto è che Lollobrigi da quando parla continua a ripetere lo stesso errore sempre, sempre. Cioè parte bene e poi il pensiero si perde, evapora, supera la troposfera, attraversa la mesosfera e infine viene risucchiato nell'infinito abisso delle puttanate. Oh, magari a sto giro non ho capito bene io, forse può spiegarcelo meglio lui, fammelo vedere. Grazie. Grazie.